Cosa? Mamma Questa è mamma, esatto E questo chi è, questo qua? Mamma No, questo qua, chi è? Questo Cocco? No, Cocco, questo è papà Mamma No, mamma, questo è papà Mamma No, no, papà, amore Mamma No, sì, questo è mamma, ma questo qua è papà, amore Mamma Ok, mi stai comunicando qualcosa Credo con questa costruzione Cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Monelli Ma cos'è? Ma non lo so Quattro Cinque Tenete gli addominali Sei Non perdeteli Sette Prove di X-Factors Prove di X-Factors Con Antonini Se ne avete uno che non avete più concorrenti, ritornate al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo Cioè se ne avete uno che è stato promosso, potete tornare al tavolo